Buongiorno a tutti, per chi non ha visto il precedente video mi ripresento, sono Lara Abram, sono una logopedista e da anni collaboro con l'associazione Linfa Neurofibromatosi. Assieme abbiamo creato il progetto Diamo la Parola ai Bambini, all'interno del quale io mi occupo di quella che è la valutazione e riabilitazione degli aspetti logopedici. Di cosa mi occupo in particolare di valutare il linguaggio orale, scritto e altri componenti ad esso legato. Come posso essere utile a voi in questo momento? Attraverso un servizio di teleriabilitazione posso aiutare il vostro bambino supportandolo in quelli che sono gli aspetti legati alla lettura, alla scrittura, ma non solo alla comprensione di racconti, al racconto in sé. È importante anche in questo momento cercare di sostenere queste abilità perché come sapete sono la base, pongono la base a quello che è il sistema di apprendimento del bambino e quindi a quelle che sono le sue capacità di apprendere tutti i contenuti scolastici con meno fatica. Sapete che quando si fa poca fatica è più facile affrontare tutte le sfide che la vita ci mette di fronte. Per questo motivo io sono disponibile a proseguire i trattamenti riabilitativi in corso. Contattate l'associazione Linfa e siamo qua per voi. Grazie!